salto quantico una volta che prendi una decisione l'intero universo corrisponde per realizzarla la fisica quantistica e la fisica delle possibilità non solo possibilità materiali ma anche possibili significati sentimenti e intuizioni noi creiamo la nostra realtà conoscenza e consapevolezza attraverso la nostra connessione energetica fisica e non fisica come ognuno di noi vede il tempo dipende dal proprio mondo e dalla propria lente percettiva sfrecciando alla velocità della luce attraverso i nostri centri energetici il colore cambia in relazione al risultato che vogliamo raggiungere la visualizzazione di ogni singola frequenza di colore nel tunnel che ho creato corrisponde ad un effetto sul nostro organismo siamo trasformatori emotivi capaci di modulare gli eventi della nostra vita al nostro sentire siamo unici uniti liberi esseri vibranti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti